Tradizione e innovazione. È questo il connubio scelto dall'amministrazione comunale di Rosà per l'edizione 2017 del premio benemerito della cultura, consegnato ieri nella sala consigliare del comune come atto conclusivo del Festival della Cultura. La giunta guidata dal sindaco Bordignon infatti ha scelto di assegnare quest'anno il riconoscimento ex equo premiando nello stesso tempo l'innovazione rappresentata dagli studenti della classe terza dell'indirizzo grafica e multimedia dell'ente di formazione IRIGEM e la tradizione impersonata dall'associazione culturale Corte Contadina Cadolfini. Gli allievi di IRIGEM sono stati premiati per la realizzazione di alcuni lavori video effettuati in occasione di due manifestazioni, la festa dello sport del Parco delle Rose e il meeting di Halloween di nuoto, lavori dai quali è nato un progetto di più ampio respiro denominato Sportivamente Insieme. Noi ragazzi siamo usciti fuori sede senza l'aiuto dei docenti con le nostre attrezzature e abbiamo realizzato delle riprese che abbiamo utilizzato poi per montare dei video. Un lavoro riuscito grazie alla tecnica imparata a scuola e alla passione che i ragazzi hanno messo nel progetto stesso grazie al quale hanno potuto mettersi alla prova e sperimentare concretamente quanto imparato giorno dopo giorno in aula. Questo sia stato davvero un'esperienza formativa e avere un riconoscimento penso che ci dia anche la forza e la volontà di continuare a fare ciò che facciamo e farlo con ancora più impegno e dedizione.